musica questa sera andiamo a Staples Center cioè fanno praticamente lo show di Frozen sul ghiaccio con personaggi veri ovviamente e quindi portiamo le bambine siamo super risultati però prima di questo vi porto sul set di Grand Father spenderò la mattinata con le bambine sul set di Co a dopo, ciao! ciao ok ci siamo ciao ciao baby ciao 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 insomma però che sta bene ciao qua dietro di campo oh questo è l'ingresso del CBS studio Nicola sta facendo sta girando il filmato devo farvi qualche lezione di camera qua Siamo su set di Grand Father questo è praticamente il campo base questo è l'estrare di Leila d'Emilia il loro nome è Ivy dello Show qui dove loro fanno i loro snellini e Leila si è appena svegliata ciao 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 il momento più bello di Emilia e Leila quando si svegliano oh braccia mio braccia mio ciao la donna che aiuta il posto ciao 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 Sì Grazie a tutti.